Movimento e potenza L'industria dei sistemi di trasmissione, movimento e potenza trasforma e moltiplica l'energia per far crescere il nostro mondo e il benessere del nostro pianeta. Era il 1971 quando le principali aziende del settore decisero di mettersi insieme per affrontare i problemi comuni che le assillavano quotidianamente. L'elettronica, che avrebbe cambiato radicalmente il destino del settore, si affacciava proprio in quegli anni nell'industria nazionale. Nasceva così ASIOT, l'associazione italiana dei costruttori di organi di trasmissione e ingranaggi che da allora non ha mai smesso di crescere assieme al settore che rappresenta, tenendo sempre al centro la meccanica, ma seguendo da vicino tutte le discipline che negli anni hanno caratterizzato lo sviluppo del settore, fino a farlo diventare oggi l'espressione più compiuta ed eccellente della meccatronica made in Italy. Oggi i sistemi di trasmissione, movimento e potenza sono alla base di tutti i settori chiave dell'industria mondiale, da quella aeronautica, navale e ferroviaria, fino all'automotive. Organi di trasmissione e ingranaggi consentono la produzione di energie tradizionali e rinnovabili, il funzionamento di impianti siderurgici, la movimentazione e il sollevamento, la logistica e il trasporto. Dalle grandi macchine agricole per il movimento terra ai beni strumentali, fino agli utensili d'uso quotidiano per robistica e giardinaggio, sono molteplici gli aspetti della nostra vita quotidiana che funzionano grazie alla trasmissione di movimento e potenza. Anche da un punto di vista economico, l'impatto del settore è notevole. Considerando anche pneumatica, fluido-dinamica ed elettrotecnica, il settore della trasmissione, movimento e potenza assomma un fatturato stimato di oltre 20 miliardi di euro. Con riferimento alla sola componente meccanica, l'industria italiana della trasmissione, movimento e potenza si attesta oltre i 6 miliardi di fatturato annuo, con una quota di export stabilmente sopra il 60% e un saldo della bilancia commerciale di settore positivo per quasi un miliardo e mezzo di euro. Tra i leader indiscussi di settore, l'Italia segue a ruota la Germania, da sempre in cima alla classifica mondiale, con la quale tuttavia vanta storicamente un saldo commerciale di settore positivo. Un esempio di eccellenza tutta italiana. Un bene inestimabile per il paese. In questo contesto di eccellenza a livello mondiale, Asciot associa le aziende più rappresentative del settore. Circa un centinaio di costruttori di trasmissioni meccaniche, ingranaggi, produttori di coscinetti e supporti ed altri elementi di trasmissione che nel complesso assommano oltre il 60% della produzione nazionale e circa il 70% dell'export, ai quali si affiancano i più importanti partner del settore. Produttori di lubrificanti, utensili, macchine utensili, prodotti per finitura materiali, fornitori di trattamenti termici e gruppi editoriali tematici. Rappresentante istituzionale e quel che più conta reale dell'industria italiana dei sistemi di trasmissione, movimento e potenza, Asciot ne coordina, tutela e promuove gli interessi presso istituzioni ed enti pubblici e privati a livello nazionale ed internazionale, fornendo supporto mirato alle associate ed affiancandole per trovare soluzioni alle principali problematiche di natura tecnica ed economica che caratterizzano il settore. Negli anni, Asciot ha sviluppato importanti sinergie con tutte le associazioni che rappresentano i principali settori di sbocco e quelli attigui e in particolare, a partire dal giugno 2011, ha deciso di entrare a far parte di Confindustria aderendo a Danie, la Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche. Ma le relazioni con il mondo associativo non si fermano all'Italia. A livello internazionale, Asciot si interfaccia con il Comitato Europeo delle Associazioni dei Costruttori di Ingranaggi e Organi di Trasmissione, cui aderiscono tutte le associazioni europee di settore e con le omologhe associazioni americane e giapponesi. Come il settore che rappresenta è un moltiplicatore di energie che fa muovere l'economia italiana, così Asciot è per i suoi soci un vero e proprio sistema di trasmissione. Come i prodotti dei suoi associati, Asciot permette a parti diverse tra di loro di lavorare insieme, trasformando un'enorme potenzialità in capacità di generare, di muovere, di produrre, in una parola di crescere. Insieme.